Posizionata nei pressi del cimitero di Melpignano, la piccola chiesa di Santa Maria Maddalena venne edificata nel 1661, sui resti di un precedente edificio sacro. Il culto di Maria Maddalena si consolida nel paese intorno al 1656, quando la popolazione si affida alla protezione della santa in occasione dell'epidemia di peste che colpì l'intero regno di Napoli. Infatti sulla macchina dell'altare maggiore si conservano le statue dei santi Lazzaro e Oronzo, invocati dai fedeli per la protezione delle malattie epidemiche come la peste. Ancora oggi l'edificio conserva la sua grazia, testimonianza della devozione religiosa dei melpignanesi per la santa penitente. Ancora oggi l'edificio conserva la sua grazia, a Solti Piedere Ancora oggi l'edificio conserva la sua grazia, un'ers Harrison Smartiana a Solti Piedere qualche genuina l'edificio diciamo seguena